25 chili di bionde, 1250 pacchetti di sigarette nascosti nei bagagli scoperti e sequestrati da inizio anno nell'aeroporto d'Abruzzo. 47 passeggeri sorpresi con un quantitativo di sigarette superiore al limite consentito dalla legge e che sono finiti nella rete dei controlli sistematici di guardia di finanza e agenzie dogane e monopoli. Il risultato colto grazie ad attività quotidianamente svolte nell'ambito di un protocollo d'intesa stipulato dalle due istituzioni, controlli pianificati sui viaggiatori in arrivo con voli in transito o provenienti dall'Albania soprattutto. Di particolare e fondamentale importanza è stato il fiuto dell'unità cinofila della Guardia di Finanza Maiche, il cane antitabacco che ha permesso di migliorare e calibrare la qualità e la quantità dei controlli sui passeggeri in transito, sui bagagli collocati in stiva per i quali in alcune circostanze non è stata reclamata la titolarità. Trattandosi di introduzione non dichiarata nel territorio nazionale di tabacchi lavorati esteri sprovvisti di sigilo dei monopoli di Stato per una quantità sempre inferiore a 10 kg, Guardia di Finanza e agenzie dogane e monopoli hanno proceduto a combinare sanzioni amministrative per un totale complessivo di 162.000 euro.